ma che stanno? bici scatti ma dai una sigaretta o chi sta parteando? c'era un po' di famicchio non abbiamo una sigaretta eeeh 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 vanno in nubi che dò scoppa che dò scoppa che dò scoppa che dò scoppa guarda è un video è un video ancora ma insomma c'è un video stiamo provando i telefoni eeeh oh si ma non riprendere la ferrari eeeh 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 ciao oh cammello tu te ne vai con lui a chi è nata oh a questa velina